Buonasera, buonasera cari amici, è una occasione molto particolare quella che ci offre il teatrino della Fondazione Bracco e cioè quella di andare a riportare opinioni, impressioni, ricordi, memorie, citazioni, fonti su alcuni aspetti anche della vita privata di artisti molto amati, molto noti, molto desiderati e a volte un po' mitizzati che invece possiamo ricostruire nella loro vita attraverso le testimonianze dell'epoca, attraverso le fonti, attraverso anche dei materiali documentari eclettici talvolta ma di grandissimo interesse e l'occasione si svolge sullo sfondo di una importante esposizione tuttora in corso a Palazzo Reale, una mostra che ha come figura totemica di riferimento quella di Tiziano ma che è soprattutto dedicata a questa immagine del mondo femminile nella Venezia del Cinquecento, una mostra che resterà aperta fino al prossimo 5 giugno e che quasi cronologicamente insomma può essere messa a braccetto in sequenza con l'attenzione con l'artista che subito dopo la fine di questa stagione straordinaria che è stato il Cinquecento Veneto, proprio con il declino dell'ultima grande generazione dei dinosauri della pittura veneta emerge con prepotenza la figura di Caravaggio, per cui c'è proprio un passaggio di consegne diretto se poi pensiamo che il noto maestro di Caravaggio si stimava, Simone Peterzano stimava di essere stato allievo di Tiziano ecco che l'anello di congiunzione è ancora più stretto. Allora questa sera cercheremo di intrattenervi, per parte mia mi occuperò delle donne di Tiziano e accanto a me c'è la professoressa Rossella Vodré che vorrei venisse salutata da un applauso. Autrice di uno spettacolare e massiccio ulteriore nuovo studio su Caravaggio e quindi è la persona più qualificata questa sera non solo per parlarci dell'arte di questo nostro amato maestro ma anche del suo coté, del suo versante femminile. Quindi per ragioni non di garbo e di educazione ma puramente di cronologia degli artisti tocca a me iniziare e inizio appunto parlando dei delle donne di Caravaggio e vediamo se possiamo fare partire la ma questo sarei io. Eccolo qua, lo faccio partire io. Molto bene. Le donne di Tiziano sono un mito per quello che riguarda la pittura. Tiziano ha dipinto delle donne meravigliose, delle donne cariche di sensualità, cariche di vita pulsante e d'altronde questo è il leitmotiv di tutti coloro che scrivono di Tiziano durante la vita di Tiziano. Continuano a dire Tiziano ci restituisce l'esistenza palpitante, la vita pulsante, il battito del cuore, le vene con il sangue che scorre nei corpi, il colore stesso della vita. Sperone Speroni, uno dei letterati che si sono occupati di Tiziano, dice essere ritratti da Tiziano è come vivere due volte perché il Tiziano con qualche secolo in anticipo rispetto a Dorian Gray rende, restituisce proprio una vita autonoma al ritratto stesso. Naturalmente Tiziano come tutti gli artisti del Rinascimento si serviva di modelle, quindi noi possiamo individuare, credo anche io che sono molto poco fisionamista e adesso ho la scusa delle mascherine per dire la scusa non ti avevo riconosciuto ma per me è terribile, faccio delle gaff spaventose, invece anche ai miei occhi è palese che questa è sempre la stessa ragazza, una ragazza pare di origine ferrarese che frequenta lo studio di Tiziano tra il 1536 e il 1538 che poi è il periodo durante il quale Tiziano è particolarmente in contatto con la corte di Urbino ed è una fanciulla, una ragazza, una modella che compare ripetutamente più o meno succintamente vestita, sempre meno vestita, fino al nudo integrale della Venere di Urbino che è il volto centrale dei tre che vedete qui e quindi questo è un esempio di come è stato fatto direi costantemente, persino in modo quasi a volte stucchevole per Caravaggio, andare a cercare di capire i nomi, i cognomi, gli indirizzi, l'attività e la tariffa anche delle modelle di Caravaggio beh qualcosa del genere si potrebbe fare anche per Tiziano, però Tiziano tutto sommato non offre il destro a quella versante un po' pruriginoso che noi troviamo nelle biografie negli studi caravaggeschi. Tiziano è un solido montanaro, nasce nel Cadore, resta radicato alla sua zona di origine, alle sue Dolomiti, qualcuno addirittura dice che aveva scelto lo studio, il suo atelier a Bieri Grande perché nei giorni limpidi si vedevano le Dolomiti, perché da lì poteva affacciarsi e vedere le sue montagne. Allora io comincerei dicendo quali sono le donne vere della vita di Tiziano, chi sono le figure femminili che hanno popolato la vita di Tiziano. Ne conosciamo tre, ma le conosciamo quasi più biograficamente che non attraverso i loro ritratti. Tiziano che è un prolifico ritrattista, dal punto di vista dei suoi affetti familiari invece è molto riservato perché non conosciamo ritratti certi. Ci sono molte opinioni, molte leggendarie proposte. Per esempio è possibile, ma chi lo sa, che questa simpatica e soda matrona chiamata La Schiavona, un bel ritratto. Quando è stata inaugurata la mostra attualmente in corso a Palazzo Reale, un giornalista a corto di ispirazione per le domande mi dice ma che cosa ci dicono le donne di Tiziano? Io dico beh di non avere paura di avere una taglia in più perché le donne di Tiziano sono tutte molto prosperose, sono molto generose di forme. Una delle più generose è sicuramente questa Schiavona, dipinto giovanile, un'opera anche interessante per la questione del paragone, la pittura, la scultura, il ritratto, il profilo, vabbè tutte queste storie. Però è possibile che questa simpatica signora sia Orsa, noi diremmo forse meglio Orsola, ma tutti la chiamano Orsa, Orsa Vecellio, la sorella di Tiziano, la sorella nubile di Tiziano, ma molto importante per la vita di Tiziano perché quando purtroppo Tiziano rimane vedovo molto giovane con tre bambini, la sorella Orsa si scaraventa giù dal paese, viene giù da Pieve di Cadore a Venezia e si occupa dei bambini di Tiziano, diventa la seconda mamma dei figli di Tiziano e vedrete che di Orsa riparleremo. Della moglie di Tiziano, Cecilia Soldano, conosciamo pochi tratti della biografia, sappiamo che anche lei era una cadorina, non di Pieve di Cadore ma di Perarolo che è un paesello vicino a Pieve di Cadore, era la figlia di un barbiere e tra l'altro Tiziano ha questa storia di amore vero con Cecilia ed è una storia, anche qui possiamo metterci un pizzichino di pepe, perché comincia ad avere figli da Cecilia prima del matrimonio. Infatti i primi due figli maschi di Tiziano, che nascono nei primi anni venti del cinquecento e a cui infaustamente Tiziano attribuisce dei nomi sontuosi, nomi classici, il primo si chiama niente meno che Pomponio e quindi per tutta la vita sarà un disastro per Tiziano, se l'è andata anche a cercare, il secondo si chiama Orazio. Quando nasce Orazio Tiziano decide di sposare Cecilia dicendo perché è inferma, cioè regolarizza la sua posizione anche in omaggio alla salute cagionevole di questa ragazza. ipotesi che questi santi, che potrebbero essere Giorgio e Dorotea o più fantasiosamente niente meno che Ulfo e Brigida, che compaiono in un bel dipinto del Prado, un'opera anche questa piuttosto giovanile di Tiziano, dell'epoca dell'assunta per intenderci, è possibile che siano l'autoretrato di Tiziano e un omaggio alla sua diciamo compagna o fidanzata, la quale Cecilia diventa la sposa di Tiziano, la moglie di Tiziano e effettivamente la sua salute non doveva essere di ferro perché quando mette al mondo il terzo figlio che è una bambina ed è Lavinia, purtroppo Cecilia non sopravvive al parto, muore per le conseguenze in Fauste del terzo parto. E proprio nel 1530 Tiziano dipinge questa Madonna del Coniglio che si trova a Louvre. Ora voi sapete tutti che il coniglio è tradizionalmente l'animale legato all'idea della fertilità, della fecondità, del fatto di generare senza problemi numerosissime progenie. E qui la Madonna sta accarezzando un coniglietto bianco ma sta affidando Gesù bambino ad un'altra donna. Osservate la... ma è molto buia la mia diapositiva, mi dispiace, non si vede quasi niente, anche perché abbiamo tenuto le luci accese, credo per la diretta streaming, salutiamo gli amici che ci stanno guardando in streaming. Sarebbe più bello guardare le immagini piuttosto che la faccia del sottoscritto, ma forse in streaming lo vedono meglio di come lo vediamo noi. Comunque fidatevi sulla parola, la Madonna non sta tenendo in braccio il bambino ma lo sta assegnando ad un'altra donna, lo sta consegnando ad un'altra donna. E in secondo piano c'è un pastore che è sempre stato indicato come un autoritratto di Tiziano, che guarda un po' da lontano e con un'aria un po' malinconica questa scena. Ecco, io credo fortemente che questo sia il dipinto che Tiziano ha fatto in occasione di questo avvenimento luttuoso della sua vita, cioè gioioso per la nascita attesa della bambina dopo due maschi, ma terribilmente luttuoso per la morte di Cecilia. E vedete che questa è proprio una scena che descrive esattamente questa situazione. Chi è la donna a cui viene affidato, consegnato il neonato è appunto Orsa. Orsa, la sorella precipitatasi giù dal cadore per aiutare il fratello rimasto inaspettatamente vedovo, sarà la mamma diciamo così surrogata dei bambini di Tiziano, dei due maschi e della femmina, la amatissima Lavinia. Vedo i vertici di Schirà che mi guardano con perplessità perché quest'opera è in mostra e c'è scritto Giovinetta di Casa Farnese. Quindi qui però ve la propongo perché è una delle molte ipotesi di identificare nessuna mai confermata dalle fonti che si tratti di un ritratto della figlia di Tiziano. Tiziano ha seguito tutta diciamo l'infanzia, poi la preadolescenza, l'adolescenza, la prima giovinezza di Lavinia con grandissima partecipazione, con grande affetto e poi seguirà anche il suo matrimonio. Lavinia sposerà, sposa nel 1555 quando aveva 25 anni un ragazzo, un giovane gentiluomo di Serravalle, uno dei due borghi che formano l'odierna Vittorio Veneto e Tiziano per l'occasione dipinge una pala d'altare brutta, devo dire, una delle opere meno belle di Tiziano ma che è tuttora sull'altar maggiore della chiesa parrocchiale di Vittorio Veneto dove i due si sono sposati. Queste sono le tre donne vere della vita di Tiziano, la sorella, la moglie e la figlia. Poi ci sono le numerosissime donne più o meno di potere, più o meno forti che scorrono davanti al cavalletto di Tiziano. Una di queste che in realtà non si presenta davanti al cavalletto di Tiziano ma manda al suo posto un altro suo ritratto è la grandiosa Isabella d'Este. Isabella d'Este in Gonzaga, donna di gusto straordinario, collezionista, mecenate, ispiratrice degli artisti ma anche un pochino diciamo attenta al proprio look. Tant'è vero che quando si fa ritrarre da Tiziano aveva intorno ai 60 anni. Dice caspita che lifting ragazzi, perfetto. No, aveva fatto una scelta ancora migliore, aveva mandato a Venezia, utilizzando come corriere diplomatico questo Taddeo Albano che era l'ambasciatore di Mantua a Venezia, aveva mandato un suo ritratto da giovane, da ragazzo dicendo Tiziano è così bravo che reinventerà questo dipinto. E questo è un brano della lettera che Isabella d'Este scrive all'ambasciatore Taddeo Albano dicendo il ritratto nostro di mano di Tiziano, ne piace di sorte che dubitiamo di non essere stata in quell'età che gli rappresenta di quella beltà che in sé contiene. E questo è un dipinto esposto anche questo a Palazzo Reale. Altre donne nella vita di Tiziano sicuramente sì, non c'è dubbio, si favoleggia di una figlia diciamo extraconiugale tale Emilia ma di cui però di nuovo si sa poco o nulla. Abbiamo una serie di testimonianze brillantissime però del migliore amico di Tiziano che è il controverso poligrafo e scrittore Pietro Aretino. Pietro Aretino è uno dei testimoni più brillanti della prima metà del Cinquecento, un personaggio inafferrabile che si muove con grande spirito tra le grandi capitali, tra Roma e Venezia, toccando però anche Mantova e altre città. La sua penna è temutissima perché Pietro Aretino riesce ad entrare in collegamento, in contatto con tutti i potenti del momento, da Carlo V imperatore al re di Francia, persino al re d'Inghilterra Enrico VIII al quale dedica una dei libri in cui raccoglie il suo epistolario. E nelle lettere di Pietro Aretino, novità tra l'altro, perché era una novità quella di dare alle stampe le proprie lettere, quindi è un nuovo genere favorito anche dalla brillantissima editoria veneziana. Ebbene nelle lettere di Tiziano, scusate, di Aretino molti sono i riferimenti a Tiziano e alcune lettere sono spedite proprio a Tiziano. Sono lettere molto diverse fra loro, alcune sono straordinariamente elogiative di opere di Tiziano, sono in particolare dei panegirici di opere di Tiziano, altre invece sono delle lettere molto private, addirittura intime e in un paio di casi sono semplicemente dei biglietti di invito a cena, come questo. Questo è testualmente. Un paio di fagiani e non so che altro vi aspettano a cena, insieme con la signora Angela Zaffetta ed io. Sì che venite, a ciò che, dandoci continuamente spasso, la vecchiaia, spia della morte, non le riporti mai che noi siamo vecchi. Aretino e Tiziano erano più o meno coetanei e Aretino invita Tiziano, anzi sollecita Tiziano ad andarlo a trovare a Cabolani, che è questo palazzetto all'angolo tra il Canal Grande e il Rio Santi Apostoli, esiste tuttora la casa di Pietro Aretino, e invita Tiziano a cena preparando, ed era uno specialista, dei fagiani. Pietro Aretino era un gastronomo specializzato in pollame. Alcune lettere contengono delle vere e proprie ricette, tra cui alcune del tutto innovative, dedicate al tacchino. È uno dei primi europei a saper cucinare il tacchino che veniva dalle Americhe, ma l'altro piatto forte della serata è la signora Angela Zaffetta. Signora Angela Zaffetta era la più nota cortigiana di Venezia, era la, come posso dire, intrattenitrice, più pagata, più ambita, più desiderata e anche più chiaccherata della città. Quindi Pietro Aretino ha preparato il menù per la serata di Tiziano, i fagiani e la signora Angela Zaffetta. Ma una lettera, la più bella lettera, due sono le lettere più belle che Pietro Aretino scrive a Tiziano. Una, quando si sposa a Lavinia e Tiziano dice, anch'io sono padre di due figlie e so quanto è difficile per un padre lasciare che la figlia vada da un altro uomo, entri in un'altra casa, lo lasci. È una lettera bellissima, molto intima, molto personale. Ma ancora più bella è la lettera che Pietro Aretino, sinceramente addolorato, scrive a Tiziano per la morte della sorella Orsa. Ve ne ho già parlato. Per averci, o Messer Tiziano, la consanguinità dell'amicizia annodati insieme gli animi con la indissolubile catena della fratellanza, il mio cuore e i miei occhi hanno concorso coi vostri occhi e il vostro cuore nella passione e nelle lacrime. Tosto che seppi come Madonna Orsa che mi fu non pur sorella, ma figliola, madre e compagna, da questo mondo era uscita. Vedete, questa è un'altra faccia di Pietro Aretino, scrittore anche scollacciato, forse troppo superficialmente ritenuto una specie di pornografo antelitteram. Questa è una lettera bellissima, piena di, guardate che belle parole, l'indissolubile catena della fratellanza. Questo vi dice anche dell'amicizia stretta che c'era tra Aretino e Tiziano e questo emblema che Tiziano, spero questo riusciate a intravederlo almeno, che Tiziano sceglie come proprio stemma. Ed è uno stemma molto strano perché è tratto dai bestiari medievali. Secondo una tradizione medievale, quando, attenzione, mamma orsa mette al mondo il suo orsacchiotto, quando nasce l'orsacchiotto, l'orsacchiotto è un batuffolo di pelo senza forma e l'orsa, leccando l'orsacchiotto, gli fa le orecchie, il naso, lo costruisce, lo scolpisce. E questo è sicuramente un omaggio che Tiziano ha fatto a sua sorella orsa, andando proprio a beccare, a trovare questa, sua sorella orsa che aveva in fondo formato, aiutato a formare i suoi tre bambini rimasti senza mamma. Bellissimo. Poi, tutt'altro versante, ci dicevamo, la capacità della sensualità di Tiziano, la trascinante vitalità di Tiziano. Queste parole che vedete accanto alla Dana e Farnese sono del nunzio apostolico a Venezia, Monsignor Giovanni della Casa, il quale scrive al cardinale Alessandro Farnese, destinatario di questo dipinto, dipinto terminato nei giardini del Vaticano all'aperto, e gli scrive Tiziano va dipingendo una nuda che faria venire il diavolo addosso al cardinale di San Silvestro. E la citazione continua, quella di Urbino, la venere di Urbino, pare una monaca teatina appresso a questa. Questo per dire della sensualità di Tiziano. Gli scritti di Tiziano, cioè intorno a Tiziano c'è di tutto. Possiamo davvero gettare le reti e raccogliere la quantità di citazioni, di riferimenti. Io adesso devo correre perché voglio stare nei tempi, ma questa è una poesia, un sonetto che Monsignor Giovanni della Casa dedica ad un ritratto di una bella donna di Tiziano, sonetto citato da Vasari nella vita di Tiziano. Questo è Paolo Pino, altro scrittore, che parla del dualismo tra Tiziano e Michelangelo in termini, vedrete le ultime parole, molto controllati. Non pongo Michelangelo né Tiziano tra i valenti pittori, perché questi li tengo come dei e come capi dei pittori. E questo lo dico veramente, senza passione alcuna. E se Tiziano e Michelangelo fossero un corpo solo, ovvero al disegno di Michelangelo, aggiuntovi il colore di Tiziano, se li potrebbe dire lo dio della pittura, siccome parimenti, anche dei propri. E chi tiene altra opinione è eretico fetidissimo. Poi ci stupiamo che gli storici dell'arte di oggi sono piuttosto virulenti nelle loro espressioni. Ludovico Dolce scrive la prima biografia di Tiziano sotto forma di un dialogo dedicato all'aretino e scrive una frase bellissima. A Tiziano solo si dè la gloria del perfetto colorire, la quale o non ebbe alcuno degli antichi o se l'ebbe mancò, a chi più a chi manco, perciò che, come io dissi, egli cammina di pari passo con la natura, onde ogni sua figura è viva, si muove e le carni tremano. Non è un film di Almodovar, è proprio la pittura di Tiziano. Egli cammina con la natura, di pari passo con la natura. Ogni sua figura è viva, si muove e le carni tremano. Questa è la palpitante presenza vitale, lo slancio vitale che c'è nella pittura di Tiziano. Slancio vitale che Tiziano indirizza nel corso della sua lunghissima vita verso una nuova visione dell'universo femminile. Tiziano capisce, grazie alle donne della sua vita, a Cecilia, a Orsa, a Lavinia, si avvicina veramente, sinceramente, profondamente, affettuosamente all'universo femminile. E questo noi lo possiamo misurare in questo momento anche in una sala di Palazzo Reale. I due dipinti che vedete qua, o che intravedete qua, sono presenti nella stessa sala ed è lo stesso soggetto, la stessa figura. L'eroica, la nobile, l'esemplare matrona Lucrezia. Questa matrona all'epoca dei re di Roma aveva subito un'aggressione da parte di Sesto Tarquinio che l'aveva violentata, l'aveva stuprata e lei, vergognandosi profondamente di questo stupro, decide eroicamente di togliersi la vita. Aveva perso l'onore? No, piuttosto perde la vita. E la tradizione molto maschilista era brava, giusto, così si fa, brava, ha fatto bene. Oh, bene. E Tiziano da giovane dipinge il suicidio di Lucrezia. Da vecchio Tiziano cambia idea radicalmente. Dice ma per quale ragione al mondo quella poveretta doveva ammazzarsi? Lei è la vittima, non è la colpevole. Lei è bianca, pura, pulita, innocente. Lui, l'altro, è sporco, è macchiato, è cattivo. E in questo dipinto favoloso che viene dall'Accademia di Arti Figurative di Vienna, lei è bianca, candida, pura. Lui, l'aggressore, è tutto chiazzato ed è addirittura dipinto additate da Tiziano. Il dipinto è conservato alla perfezione e si vedono proprio le ditate, quelli che i suoi contemporanei chiamavano gli sfregazzi delle dita di Tiziano. E d'altra parte Tiziano ha sulla parte finale della sua vita lo sfondo importante delle donne veneziane che cominciano a scrivere, non solo a ciacolare, ma a scrivere. E gli editori veneziani pubblicano gli scritti delle donne veneziane. In particolare c'è questo libro bellissimo di una donna che scrive sotto pseudonimo, si fa chiamare Moderata Fonte. Il libro si intitola Il merito delle donne, ove chiaramente si scopre come esse siano degne e più perfette degli uomini, che dice «guai al mondo se non vi fossero le donne, non vi sarebbe alcuna allegrezza, alcun ornamento, alcun ristoro di tante miserie». È un dialogo in cui sette donne parlano e si montano un po' a vicenda. Dice insomma «ma questi uomini non sanno altro che far del male, sono violenti, cattivi, brutali, pensano solamente a riempirsi la pancia». Non è che stiamo magari un po' esagerando in fondo, qualche uomo ha fatto anche qualcosa di buono. Dice «sì, non posso negarlo, ma se si è comportato bene è merito della sua mamma, quindi di un'altra donna». Ed è un libro molto proto-femminista, qui vabbè adesso non vi tedio con la citazione, in cui dice che le donne a Venezia parlano fra di loro senza tenere in nessun conto l'opinione dei maschi. Cioè c'è proprio questa grande libertà. Sono agli ultimi secondi del mio intervento e termino cercando di evocare, non riesco a farvelo vedere, il dipinto stupendo con cui si chiude il percorso della mostra di Palazzo Reale. Ed è un dipinto che era un'opera fatta da Tiziano abbondantemente oltre gli 80 anni d'età. è un fantastico inno all'amore, perché il mondo si sta liquefacendo, si sta dissolvendo intorno a questi due ragazzi innamorati che sono del tutto dimentichi di quello che sta succedendo, quasi un cataclisma che sta distruggendo il mondo, ma loro, loro vivono il loro sogno d'amore. Amor omnia vincit, tutto vince l'amore. E termino con questa strana citazione di uno dei nostri vecchi amici, Marco Boschini, autore di un simpaticissimo libro, La carta del navegar pittoresco, che è un divertentissimo libro sulla storia della pittura veneziana, e dice queste parole, attenzione al verbo. Tiziano veramente è stato il più eccellente di quanti hanno dipinto, l'abbiamo già sentita questa affermazione. Ma attenzione alla seconda parte. Perché i suoi pennelli sempre partorivano espressioni di vita. Partorire. Partorire non è un verbo da maschi, non è un verbo da uomini. Gli uomini non sanno, non possono sapere che cosa voglia dire partorire. E Marco Boschini, con una, magari per caso, o forse no, ha attribuito a Tiziano un tratto di femminilità. Ha detto Tiziano ha questa capacità di far nascere la vita, di partorire come una donna. E quindi termino dicendo Tiziano e le donne. Forse Tiziano, a Tiziano non sarebbe dispiaciuto essere una donna. Grazie. Buonasera a tutti. Pensi Elisabetta che sia possibile perché se non si vedeva Tiziano che è Tiziano, figuriamoci Caravaggio che è scuro. Si può? Proviamo? Speriamo bene, mi dispiace. Allora, grazie, grazie di questo invito. Vengo sempre volentieri alla Fondazione Bracco, con Elisabetta e la Dottoressa Bracco che mi accorgono sempre con grande affetto. Dunque, appunto, oggi parlerò delle donne di Caravaggio. Vediamo se... Donne di Tiziano, e va bene? Ecco. Ok, ci siamo. Allora, cambiamo ambientazione, cambiamo sicuramente personaggi. Tiziano muore nel 1576, nell'agosto. Caravaggio aveva, all'epoca, quattro anni e mezzo, quasi cinque. Abitava qui a Milano, a pochi passi da qui, dietro al Duomo. A Milano, dopo poco, è costretto con la sua famiglia a ritornare a Caravaggio, che era il loro paese di origine, per scappare alla peste di San Carlo, che nel frattempo era esplosa. Torna a Milano per la sua formazione, che abbia stata già ricordata, con Peter Zano, e poi va a fare un viaggio a Venezia di, diciamo, per completare questa sua formazione. Probabilmente subito dopo ci fu questo primo delitto, uccide un uomo, forse per caso, forse per sbaglio, insomma non si capisce molto, e per un anno va in prigione. Dopo, non sappiamo bene quando è successo, però, dal 1592 Caravaggio sparisce dai radar. Fino al 1596, anno in cui si materializza a Roma, di lui non si sa assolutamente nulla. Ci stiamo occupando un po' di questo periodo, anche perché è strano che Caravaggio sparisca. Di solito, dato il carattere che aveva e la sua, diciamo, aggressività, dove noi abbiamo delle tracce documentarie sue, se non altro nei documenti giudiziari, perché lui sistematicamente veniva fermato o arrestato perché andava in giro armato. Una delle ipotesi che sta prendendo sempre più piede è che lui sia partito per una guerra. Probabilmente la guerra di Ungheria che si stava combattendo proprio in quegli anni contro i turchi. Comunque, insomma, in ogni caso ci sono una serie di fattori che ci spingono a questo. Uno è che sicuramente andava sempre in giro armato di spada e pugnale, che insomma per fare una passeggiata per Roma sembrava eccessivo. Secondo, perché a Roma lui si contorna di tutte persone, direi usci dalle guerre, soprattutto da quella di Ungheria. Quindi, insomma, se uno fa un po' due più due è facile ipotizzare una cosa di questo genere. Quindi si materializza a Roma nel 1596. Roma era profondamente diversa da Venezia. Era da una parte stava ancora combattendo con le code della controriforma che l'aveva a lungo contrapposta all'eresia luterana. Dall'altra era una città in fermento. Era una città in fermento perché era in attesa di festeggiare l'anno santo 1600. Anno santo che doveva celebrare la vittoria del papato appunto sull'eresia riformistica. Per celebrare questa vittoria fu avviata una grande campagna di restauri delle chiese di Roma. Quasi tutte vennero restaurate e soprattutto vennero ridecorate. Un ruolo essenziale in questo momento fu ricoperto dal potere di comunicazione dell'espressione artistica che fu utilizzato per ribadire con forza i tutti i principi che Lutero aveva negato. Le chiese di Roma diventarono tante Biblie pauperum proprio per far capire, per trasmettere anche a chi non sapeva leggere, come la gran parte dei fedeli, appunto questo importantissimo messaggio. Quali erano i soggetti scelti? Essenzialmente l'esaltazione della Madonna e dei Santi, perché erano delle figure che erano state messe in discussione da Lutero e soprattutto i Santi penitenti, cioè San Giovanni Battista, San Girolamo, Santa Maria Maddalena. E questo perché? Perché per la Chiesa cattolica la penitenza era il nodo cruciale attraverso cui si poteva ottenere la penitenza e con la remissione dei peccati da parte della Chiesa si poteva ottenere la grazia, concetto base, che Lutero era andato a criticare. Naturalmente queste imprese di restauro e ridecorazione di tutte le chiese attirarono a Roma artisti non solo dall'Italia ma anche da tutta Europa. Faccio solo due esempi. Annibale Carracci da Bologna, Caravaggio diciamo da Milano, arrivarono proprio contemporaneamente negli ultimi anni, appunto negli anni novanta del Cinquecento, per questo motivo. E così Rubens pochi anni dopo, dalle Fiandre. Ci fu un'eccezionale fioritura artistica e Roma divenne la capitale culturale d'Europa. A Roma, chi è che popolava Roma in quel periodo, era una grande varietà di uomini e donne, soprattutto rei duci dalle guerre, un gruppo foltissimo, quindi ex soldati, pellegrini, commercianti ma anche vagabondi, zingare, banditi, prostitute e non ultime ovviamente i prelati, che tra l'altro c'erano sicuramente tutte le famiglie dei cardinali, chiaramente con tutte le loro sfarzosissime corti. I più pericolosi di tutta questa varia umanità erano i reduci. Perché? Perché facevano le scorribande armate per la città, tant'è vero che il governatore di Roma fu costretto a emettere una serie di bandi che proibivano di girare di notte armati, soprattutto nelle strade in cui c'erano i bordelli. Con la presenza dei reduci, dei pellegrini, dei commercianti ma anche non ultime dei prelati, Roma divenne la capitale del sesso a pagamento, non solo della fede ma anche del sesso a pagamento. Si calcola che alla fine del Cinquecento la popolazione delle prostitute raggiungesse la cifra notevole del 10% della popolazione. La popolazione in Roma all'epoca era circa 50.000 persone, quindi le prostitute erano circa 5.000, che insomma non era poco. Per arginare appunto questo dilagare furono relegate in un posto particolare, furono costrette a stare in un posto particolare. Vediamo un po' se ci riesco qua. Non ci riesco, sì, ecco, cioè i cosiddetti, scusate, ortacci. Si chiamava questa zona che è compresa fra il Tevere e via, quell'odierna via del Babuino, fino a sotto Trinità dei Monti. In questo triangolo, diciamo così, erano confinate le prostitute. Tra l'altro questi ortacci erano proprio dentro al quartiere di Campo Marzio, che era il quartiere dove abitava anche Caravaggio. Quindi queste che abbiamo visto sono le persone che fecero da modelli alle opere di Caravaggio. Caravaggio per sua stessa ammissione non voleva modelli di pittori precedenti, non voleva ispirarsi alle antichità di Roma che erano sparse un po' dappertutto, ma lui voleva rappresentare le persone reali. Ecco, e queste erano le persone che lui aveva a disposizione. a differenza di Tiziano, Caravaggio non dipinse mai una donna nuda. E questo non sappiamo perché. Non le sapeva fare? Non gli venivano richieste? Non lo sappiamo, questo è una bella domanda, ma non lo sappiamo. E non dipinse neanche ritratti. Abbiamo visto che Tiziano dipinge dei ritratti. Caravaggio dipinge solo un ritratto ed è quello di una cortigiana, una cortigiana fillide. Curiosamente non ha dipinto neppure un ritratto a Costanza Colonna, la Marchesa di Caravaggio, che lo seguì e lo aiutò per tutta una vita. Non esiste un dipinto che possa essere identificato con Costanza Colonna. Ma chi erano? Fillide, Lena e Annuccia, cioè le prostitute romane che sono in qualche modo legate al nome di Caravaggio. Questo è fatto un collage delle loro foto, ma adesso le andiamo a vedere una per una. Premesso, premetto una cosa, cioè ci sono degli nuovi studi su queste figure, perché, diciamo, come forse anche per Tiziano, l'immagine di queste prostitute è stato molto molto romanzato e soprattutto anche il loro rapporto con Caravaggio, che insomma non sappiamo bene ancora quale fosse. Oggi cerco di attenermi ai fatti, però c'è tutto un filone di studio che sta cercando di recuperare con credezza a queste figure proprio attraverso lo studio degli documenti giudiziari, che sono quelli, tra l'altro, in cui abbondano moltissimo le notizie su di loro. Allora, fra le cortigiane spiccava Fillide, Fillide Melandroni, questo ritratto che gli fece Caravaggio, appunto, ripeto, è l'unico ritratto femminile che noi conosciamo suo. Di pinza e ritratto, però, non si hanno documenti di rapporti diretti fra Fillide e Caravaggio. Fillide arrivò giovanissima a Roma da Siena per iniziare la sua carriera di prostituta. La troviamo giovanissima a 13 anni, quando venne fermata per la prima volta insieme a un'altra delle, diciamo, cortigiane che vedremo dopo, Anna Bianchini, anche lei sennese, perché si trovavano di sera fuori dagli ortacci in compagnia di due uomini. Quindi, e lei aveva appunto solo 13 anni, quindi era già lanciata. Verso gli ultimi anni del Cinquecento, quando Fillide aveva circa 16 anni, trovò un amante fisso, un protettore, ed era tal Ulisse Masetti, che era un uomo al servizio del cardinale Giustiniani. Anzi, veramente, alcuni hanno ipotizzato che in realtà il rapporto di Fillide fosse direttamente con il cardinale e che invece Ulisse Masetti fosse una copertura. Comunque, lei dichiara in un documento giudiziario che ebbe conoscenza carnale con Ulisse Masetti e che gli aveva regalato una veste di taffettà color fiamma, cioè immagino rosso. Nei documenti della fine del Cinquecento abbiamo molte notizie di Fillide, che era sempre per un motivo, per le risse, perché lei evidentemente aveva un carattere un po' difficile e lei viene fermata continuamente per queste che vengono definite risse a pugni, per cui fra con altre prostitute. Risse a pugni dove però comparivano anche i coltelli, infatti in alcuni casi ci sono anche dei ferimenti e in genere sono sfregi al viso, perché era il massimo dell'offesa che si poteva fare un'altra prostituta, sfregiarle il viso. Uno di queste risse a pugni la ebbe anche con Maddalena Antoniette che è stata identificata con l'ena, forse la più importante di queste prostitute legate al nome di Caravaggio, tra l'altro che era in avanzato stato di gravidanza, era circa il nono mese, quindi insomma pure non un granché. Comunque la vita di Fillide, questa vita tumultuosa e violenta, viene registrata anche negli stati delle anime della chiesa di Sant'Andrea delle Fratte del 1599. Questa è una foto fatta al documento, vedete qui i stati delle anime erano delle sorse di censimenti che le chiese, le parrocchie facevano, su tutte le, venivano schedati, tutti gli abitanti della parrocchia, ognuno si diceva se si era comunicato o non si era comunicato, o il mestiere. E al numero 22 vediamo C, spero che si veda, eccolo qua, la C che vuol dire che si era comunicata, Fillide, corteggiana, scandalosa. Cioè come vedete poi sotto, che abitava col fratello, Nicolò, fratello di detta. Lo vediamo sotto, sotto c'è un'altra cortigiana, Flaminia, cortigiana. Però solo lei ha come attributo lo scandaloso. Cioè mentre tutti gli altri, mi sono guardata tutto questi stati delle anime, nessuna delle tantissime prostitute che vivevano nella zona ha questo appellativo di scandaloso. Quindi evidentemente era proprio un tipaccio, una cosa terribile. Però ci fu un cambiamento. Intorno al 1503-14 la vita di Fillide improvvisamente cambia. Adotta un bambino fra gli esposti dell'ospedale di Santo Spirito in Sassia, ha due servitori, prende anche con sé una giovane prostituta, evidentemente per educarla, e cambia casa. Non sta più negli ortacci, ma va a abitare nel Piazza Santi Apostoli, che era un segno questo inequivocabile di un cambiamento di condizione, perché era Piazza Santi Apostoli, era la strada più ambita di Roma, perché vicinissima al Quirinale. Al Quirinale che era la sede, la residenza dei papi, quindi andare a stare vicino al Quirinale era il top che si potesse pensare a Roma in quel periodo, e lei va a abitare proprio a Piazza Santi Apostoli, e poi sappiamo da altri documenti che diventerò anche una benestante donna d'affari. Che cosa era successo? È stato ipotizzato che nella sua vietta sia entrata Giulio Strozzi. Giulio Strozzi era il figlio di Roberto Strozzi, che era un banchiere di antico e veneziano, ma di origine naturalmente di un ramo cadetto della famiglia fiorentina, che era venuto a Roma, Giulio, per fare il protonotaro apostolico. E lì evidentemente si erano conosciuti, e eccolo, ve lo faccio vedere. Non era un granché, però insomma, lei e lui, ovviamente, confronto a lei non c'è proprio paragone. A un certo punto però lui si stufò della sua carriera di protonotaro e divenne librettista e collaboratore di Claudio Monteverde, tornò a Venezia, dopo la morte di Filide, però tornò a Venezia. Dal testamento di Filide del 1614 sappiamo che fu lui a commissionare a Caravaggio il ritratto. E tra l'altro Filide dice il mio ritratto spetta a lui e voglio che dopo la mia morte gli sia restituito, cosa che evidentemente avvenne. vediamo questo ritratto di Filide, quindi che tra l'altro finì poi negli anni 30 del 600 nella collezione Giustiniani e questo, diciamo, in qualche modo Giustiniani collezionavano le opere di Caravaggio, ne avevano ben 15. Però certo il fatto che il nome di Filide sia stato accostato a quello di Benedetto Giustiniani insomma, in qualche modo anche se non c'è nessun documento che lo attesti, potrebbe essere una dimostrazione di questo interesse del Cardinale per lei. Il ritratto, come vedete, un ritratto a fondo scuro come al solito del Caravaggio la luce viene intensa un fascio di luce che viene da in alto a sinistra e illumina la figura la figura è perfettamente centrale tranne la testa che invece mostra un leggero contrapunto per dare proprio vivacità e movimento a tutta la figura. Filide si fissa con questi suoi occhi intelligenti acuti e penetranti e un'ombra di sorriso. La sua pettinatura è una pettinatura molto curiosa non so se si vede ma insomma vabbè ed è una pettinatura fatta di riccioli inanellati alti e secondo la moda che avevano le donne in età adrianea parliamo del secondo secolo dopo Cristo ma indubbiamente è interessante questo, diciamo, questo riagganciare la figura di Filide alle antichità classiche e quasi a nobilitarla questa figura. Ha pochissimi gioielli scusate no un bracciale di perle e pietre nere forse onice e due orecchini con due perle tra l'altro questi orecchini sono interessanti perché figurano nel testamento di Filide che appunto li cita dice io ho due orecchini con due perle e che li lascia lì alla sua famiglia la veste bellissima d'oro vedete ricamata cioè ricamata d'oro con queste con le maniche ampie e sul collo ha il velo giallo il velo giallo era quello che tutte le prostitute dovevano portare diciamo per essere riconosciute la cosa curiosa veramente strana è che in mano abbia un mazzo di gelsomini un mazzo di gelsomini che ha come simbolo quelli l'amore la purezza l'amabilità il matrimonio che insomma francamente in mano ha una una prostituta sembra quanto mai strana ma questo è l'amore probabilmente di Giulio Strozi che voleva la vedeva in questo modo Fillida è stata identificata con Giuditta con la Giuditta che taglia la testa alloferno di Palazzo Barberini vedete qui vi ho portato questo confronto io credo che effettivamente qualche fondamento ci sia questo naso lungo il taglio degli occhi la bocca carnosa addirittura questo accenno di doppio mento che ha anche Giuditta la no scusate il dipinto finì appunto poi nella collezione Giustiniani che furono costretti a venderla nell'inizio dell'ottocento per il loro diciamo dissesto economico fu comprata dal re di Prussia che finì nella Gemelle dei Galleri di Berlino e fu distrutto purtroppo non ce l'abbiamo durante la guerra per un incendio nella Flaktur Felgenstein dove erano stati rifugiati sistemati tutti i capolavori della Gemelle dei Galleri per proteggere dai bombardamenti e poi invece è andato distrutto lo stesso purtroppo passiamo alla seconda prostituta Lena che è stata identificata sempre problematicamente con Maddalena Antonietti è una prostituta romana e abbiamo notizia del suo rapporto con Caravaggio perché c'è una denuncia di un certo notaio Mariano Pasqualoni contro Caravaggio perché questo notaio era stato aggredito a Piazza Navona e gli è arrivato un colpo di spada in testa non poco e lui denuncia per questa aggressione Caravaggio e dice sono stato assassinato da Michelangelo da Caravaggio pittore perché a queste sere passate avessimo parole sul corso lui e Dio per causa di una donna chiamata Lena che sta in piedi a Piazza Navona che è donna di Michelangelo quindi questa denuncia ci dà due cose importanti la prima è che Lena era detta donna di Michelangelo che comunque lo vogliamo rigirare donna di Michelangelo comunque implica un rapporto diciamo intenso e duraturo con Lena e l'altro era che Lena che sta in piedi a Piazza Navona e che vuol dire che sta in piedi a Piazza Navona ce lo siamo chiesto e si stanno studiando perché sta in piedi a Piazza Navona vuol dire che esercitava il mestiere a Piazza Navona non lo sappiamo sta in piedi oppure abita ai piedi di Piazza Navona questa seconda ipotesi in realtà fa decadere il fatto che Lena fosse una prostituta perché si abitava a Piazza Navona dove c'erano tutte le affacciate sulla piazza i palazzi più nobili di Roma quindi insomma francamente si sta studiando comunque per vedere effettivamente il significato di queste parole per Lena che è questa Lena ebbe un figlio sappiamo Maddalena Antonietti vorrei chiamarla ancora ebbe un figlio del 1602 che chiamò Paolo e con il figlio Paolo viene raffigurato in due delle più belle palle d'altare di Caravaggio c'è la Madonna dei Pellegrini del 1604 e la Madonna dei Palafeneri dipinto per San Pietro quindi era la committenza più importante che fu affidata a Caravaggio tutta la sua vita che è adesso la Galleria Borghese come vedete Lena è una bella e prosperosa ragazza tra l'altro è una figlia d'arte sia la madre che la sorella si prostituivano questi sono dei particolari del volto di Lena ecco vedete con questo diciamo seno piuttosto prosperoso e il figlio Paolo che schiaccia il serpente dopo la nascita del figlio sempre nel 1602 Lena va a vivere con un altro notaio che si chiamava Gaspari Albertini un legame piuttosto tumultuoso perché lui la maltrattava la picchiava e ci sono cioè tra l'altro arrivò nel 1605 addirittura la sfregiò con il caltello sulla faccia adesso poi dunque volevo farvi vedere dove è Lena Lena è stata identificata nella Santa Caterina di Madrid che è dipinta per il Cardinal del Monte in onore della madre del Cardinal del Monte che si chiamava appunto Caterina ancora nella Marta Maddalena di Detroit nel 1600 1601 dove era figurata non solo Lena o Maddalena Antonietti ma anche Anna Bianchini che vediamo che sarà la terza prostituta che è stata identificata eccola sempre ecco nel punto questo arriviamo allo sfregio Maddalena nel luglio del 1605 denuncia una feroce aggressione da parte del convivente il notario Albertini e cacciò mano a un coltello alla volta del mostaccio che vuol dire volto che mi sfregiò e mi ferì nella faccia come si può vedere qui noi non lo vediamo adesso la Madonna dei Pellegrini perché era sicuramente prima la Madonna dei Pallapari infernieri invece no che nel mille della fine del 1605 ci doveva essere un segno ma se c'è lo elimina ecco i vari volti di Maddalena Antonietti Lena e poi ci annuncia Anna Bianchini pure lei senese l'amica di Fillide che abbiamo visto all'inizio che viene descritta sempre negli atti giudiziari più piccola che grande dai capelli rosci e lunghi il particolare di questa corporatura minuta e dei capelli rosci e lunghi ha consentito di identificarla come vedremo in una serie di quadri la cosa importante di annuncia è che nel 1597 risulta il rapporto con Prospero Orsi Prospero Orsi detto anche Prosperino con le grottesche era un amico intimo di Caravaggio e Prospero interviene tanto per sedare una delle tante rissie in cui era stata coinvolta annuncia tra l'altro nel 1597 questo diciamo il rapporto fra annuncia e Prospero è dell'aprile del 97 proprio in quello stesso periodo Caravaggio abitava a casa di Prospero Orsi perché in questo primo periodo romano in cui lui soffrì letteralmente la fame e che non aveva un tetto sopra la testa era andato ospite proprio di Prospero Orsi ecco e compare forse questa è l'identificazione secondo me meno problematica Anna Bianchini compare in una serie di dipinti proprio del 1597 la Maddalena Doria e il riposo nella fuga in Egitto Doria vedete tra l'altro i capelli rossi e lunghi e tra l'altro questi due quadri furono acquistati da Girolamo Vittrice e chi era Girolamo Vittrice era il cognato di Prospero Orsi quindi è chiaro che per aiutare finanzieramente Caravaggio che era disperato Prospero fa acquistare all'amico al cognato due quadri tra l'altro spettacolari del suo amico Caravaggio ma probabilmente si potrebbe identificare Anna Bianchini anche nella zingara della Buonaventura dei Musei Capitolini anche se in realtà qui c'è tutta una storia che Caravaggio fermò una zingara per strada e la dipinse o la Madonna della Natività di Palermo commissionata tra l'altro da un senese e Annuccia era senese e una pala che nel cuore di tutti noi perché è stata rubata nel 1969 e non più ritrovata ancora come abbiamo detto prima ecco di nuovo i capelli rossi di Annuccia nella Marta e Maddalena di Detroit dove compare insieme a Maddalena Antonietti e alcuni hanno trovato una somiglianza fra Maddalena Antonietti e la morta della Vergine del Louvre qui però diciamo questa identificazione poggia essenzialmente sulla una frase di Mancini che è un biografo di Caravaggio e lo conobbe quindi particolarmente attendibile che scrive che nella morte della Vergine Caravaggio dipinse qualche meretrice zozza degli ortacci qualche sua bagascia una cortigiana da lui amata e quindi su questa base si sono scatenati la ricerca di identificazione e qui ecco le quali le possibili identificazioni di Annuccia tutte con i capelli più o meno rossi ancora c'è un'ultima prostituta legata a Caravaggio si chiama Domenica Calvi detta Menicuccia non ne sappiamo assolutamente niente perché non è descritta negli atti giudiziari però abbiamo un documento che testimonia appunto sulla gambe diretta con Caravaggio dice è una testimonianza di Caravaggio stesso mentre era stato arrestato nel grazie grazie mille scusatemi era stato arrestato tra via del Babuino e via dei Greci e dice ai gendarmi dice quando io intesi perché l'avevano arrestato perché pensavano che fosse lui che tirava dei sassi non so dove dice quando io intesi tirare gli sassi stavo a ragionare con Menicuccia che sta in detta strada quindi a via del Babuino che era il limite delle ortacci e gli sassi furono tirati avanti che io credevo fossero tirati dai miei compagni quindi lui diciamo così chiacchierava con Menicuccia ecco e qui appunto come dicevo che a differenza di Tiziano ma anche di Annibale Carracci che è il contemporaneo di Caravaggio addirittura lavora a Roma negli stessi anni e che tra l'altro dipinse per il Cardinal Farnese nel 1600 un tripudio di corpi nudi di uomini e donne nella galleria del Palazzo Farnese Caravaggio non ha mai dipinto un nudo di donna tanto per vedere che non è che non usavano i nudi a Roma usavano e come questo è Annibale Carracci della Galleria Farnese tra il 1600 e il 1602 gli amori degli dèi quindi ecco il tripudio di corpi e nudi femminili e maschili guardate gli amori degli dèi per cui naturalmente qui c'è Giove e Giunone sempre per il Cardinal Farnese oppure ne vanno apportati due ma ce ne sono un bel po' e Polifemme e Ganatea lo stesso quindi certo non erano era qualcosa i corpi nudi era qualcosa che si vedeva però curiosamente Caravaggio nudi di donna non se ne parla le donne di Caravaggio sono per lo più come abbiamo detto all'inizio madonne sante o eroine veterotestamentarie e sono tutte figure riprese dal vero attraverso le quali Caravaggio trasmette quello che è il suo messaggio più importante cioè la riaffigurazione della realtà senza alcuna idealizzazione e soprattutto l'umanizzazione delle figure divine in questo modo lui incredibilmente coincide la sua volontà con quella della controriforma cattolica perché lui riesce in questo modo ad avvicinare i fedeli alle figure sacre più importanti della chiesa di Roma e questo era proprio uno degli scopi più importanti della controriforma cattolica sono tutte figure rigorosamente vestite anche se non prive di una loro sensualità che sono trasmette di solito con raffinati particolari come per esempio gli occhi furbi o il sorriso della zingara della Buonaventura che distrae il giovane in questo modo mentre cerca di rubargli l'anello dalla mano la santa degli occhi puntati su di noi della santa della santa caterina il seno di giuditta il seno che sembra sembra trasparire sotto questa camicia bianca in realtà il seno non c'è abbiamo fatto le nostre analisi scientifiche su questo pensando di trovare sotto un corpo nudo di donna in realtà non è così sotto non c'è niente e il seno e la trasparenza è tutto dipinto sopra la camicia quindi proprio anche quando lo poteva fare non lo faceva la madonna dei palafrenieri che offre questo seno prosperoso ma non scoperto è coperto e lo stesso nelle sette opere di misericordia di Napoli c'è il particolare di Pero che era la figlia che va a lattare il padre in carcere e appunto si vede la figlia che offre il seno al padre con questo particolare meraviglioso delle due gocce di latte che sono sulla barba del padre tra l'altro in questo modo Caravaggio ha fuso in due queste vengono raffigurate tutte e sette le opere di misericordia visitare i carcerati vediamo che sono fuse in due due opere di misericordia il visitare i carcerati e da da mangiare agli affamati diverso il caso invece di Caravaggio e i suoi nudi maschili Caravaggio era formidabile nel dipingere i nudi maschili in cui trasmette al massimo grado tutta la sua carica erotica e sensuale e vediamoli eccoli qua il bacco degli uffizi con questa spalla nuda che ci viene incontro qui addirittura nel casino Ludovisi Giove Nettuno Plutone tutti e tre nudi ma uno in particolare ed è praticamente tra l'altro lo stesso Caravaggio che si dipinge nudo su uno specchio per cui insomma quello che vediamo è proprio lui ancora tra l'altro il casino Ludovisi come sapete in questi giorni sta andando all'asta quindi se qualcuno se lo vuole comprare Caravaggio il San Giovanni Battista dei Musei Capitolini guardate abbracciato ad un caprone anch'esso completamente nudo o la Giuditta Oloferne nella Giuditta che taglia la testa Oloferne un bellissimo nudo di uomo ma la più potente trazza dell'erotismo di Caravaggio è nell'amore vincitore di Berlino anche questo viene dalla collezione Giustiniani e Giustiniani lo teneva nascosto sotto una tendina di Taffetà Verde per diciamo riservato per ultimo nella visita alla sua collezione per aumentare la sorpresa dei suoi ospiti raffigura il presunto l'allievo sicuro ma il presunto amante di Caravaggio Francesco Buoneri detto cecco del Caravaggio l'amore adolescente nudo e trionfante sorride beffardo e provocante perturbando profondamente più di una persona che incroci il suo sguardo sono stata testimone io personalmente di una vera e propria sindrome di Stendhal di fronte a questo quadro di persone con una sensibilità particolare è in questo quadro che a mio avviso Caravaggio ha espresso al massimo grado la sua empatia sessuale ma questa è un'altra storia grazie questa ed altre storie sono nel volume recentemente pubblicato da Rossella Vodré appunto è dedicato a nuove ricerche e approfondimenti su questo artista infinito che è Caravaggio e altre storie sono disponibili a Palazzo Reale nella mostra che ha come figura di riferimento Tiziano e come oggetto la rappresentazione del mondo femminile nella Venezia del Cinquecento aperta a Palazzo Reale fino al 5 giugno grazie buona serata grazie